Dopo tanti interrogativi dei fans, sembra che Luca Onestini ed Ivana Marazzova, ex coinquilini al GF VIP, abbiano deciso di diventare una coppia e i due bellissimi avrebbero anche passato una notte insieme, in un hotel nella romanticissima Verona, dove vivono la loro amica Giulia Dell'Ellis. Quarta classificata nelle reality dietro Daniele Bossari, Luca e Ivana, e il suo fidanzato, Andrea Damante, la nuova coppia tuttavia sono oggi stati costretti a separarsi. Perce la modella cieca che aveva fatto da Valletta a Gianni Morandi, conduttore del Festival di Sanremo nel 2012, tornata nel suo paese per trascorrere le feste con la sua famiglia, che non vede da tempo. Anche Perra c'è la ragazza rimasta per quasi tre mesi nella casa pispiata d'Italia. Invece lo studente romagnolo di odontoiatria, modello ed ex tronista di uomini e donne passer questo periodo qui con i suoi cari e si recer, senza Ivana alle serate nei locali in cui va re-invitato. Magari in compagnia del suo grande amico Raffaello Tonon con cui ha instaurato un rapporto talmente buono, che i due sono stati ribattezzati un Eston, come se fossero una coppia. Su Instagram il secondo classificato al GFVpa ha scritto una dedica molto romantica e piena di nostalgia, indirizzata anche se appare vaga e non c'è nessun nome proprio ad Ivana Marazzova, partita solo pochi giorni fa per la Repubblica Ceca. Sotto le sue parole, il ragazzo ha anche messo l hashtag cancelletto romantici. Il messaggio la nostalgia ma ecco cosa scrive Luca Onestini. Pensieri tanta voglia di inseguirli. La mente corre dove sei. Piedi per terra e testa fra le nuvole. Buona giornata cancelletto dreamers buona giornata cancelletto romantici. G nella casa. Il 23enne lasciato in diretta dall'ex corteggiatrice di Uomini e Donne Soleil Sorg Stasi si era dimostrato sempre più preso da Ivana Marazzova. Con cui effettivamente andava d'amore e d'accordo l'aveva anche definita. Ancora, più bella dentro che fuori. E molti speravano di vedere G nascere una nuova coppia. Dopo quella formata da Cecilia Rodriguez e D'Ignazio Moser. Tuttavia Ivana era ancora fidanzata. E Onestini non voleva mancarle di rispetto. Facendosi troppo avanti. Quindi sotto l'occhio indiscritto delle telecamere non era successo nulla tra loro. Poi, per, una volta usciti. Ivana aveva lasciato il giovane imprenditore Alessandro Allevato. Con il quale stava solo da pochi mesi e con le poco impegno. Cos Luca ha avuto tempo libero e lei ha capitolato. Giorni fa Federica Panicucci. A mattino 5. Riuscita a strappare ai due il primo bacio in pubblico ma l'extronista di Uomini e Donne in particolare non ha dovuto farsi pregare. A NDR all'isola. Grandi amici e fans della coppia Luca Onestini e Ivana Marazzova si chiedono speranzosi se la storia appena è nata tra i due proseguir. Non solo dopo il distacco natalizio. Ma anche pensando al fatto che Luca probabilmente partir con Raffaello Tonon per l'isola dei famosi 2018 in Honduras. Da gennaio fino a marzo o aprile. Luca Onestini altro su MSN il tormentone di Onestini batti le mani schiocca le dita virgolette Mediaset sponsorizzato offerta Surface Laptop I5 solo per poche ore risparmi fino a 224 acquista qui maggiore maggiore di